Il volley soverato dopo la vittoria nel turno infrasettimanale con Delta Informatica Trentino prepara l'ostica trasferta di Marignano, coach Barbieri. Una trasferta anche questa importante per la classifica visto che mancano ormai solamente tre giornate al termine della regular season. Sì, i punti che mancano ai play-off sono veramente pochi, perciò vogliamo provare, pur consapevoli, che Marignano è veramente un campo ostico duro da una squadra molto difficile da affrontare, però siamo convinti di poter far punti. Se dovessimo far quelli può darsi che torniamo già con i play-off in tasca. Un soverato che ha dimostrato nel turno infrasettimanale di attraversare un buon periodo di forma sia dal punto di vista fisico poi reduce da due vittorie casalinghe consecutive, questo quindi fa anche ben sperare per il futuro. Certamente, lo sappiamo che le vittorie fanno certo morale, ne abbiamo fatti due, soprattutto abbiamo preso sei punti perciò il morale ce l'abbiamo, su quello non c'è problema. Tecnicamente stiamo lavorando, devo dire che soprattutto in seconda linea siamo cresciuti e ben vengano queste partite per preparare l'eventuale play-off. Presentiamo questo Marignano, una squadra che ha disputato praticamente una stagione da vertice è stata nelle primissime posizioni sin dall'inizio, all'andata qui si impose 3-1, ha vinto la Coppa Italia adesso ha avuto qualche battuta d'arresto, però mercoledì scorso ha ripreso la marcia ha vinto quindi un avversario ostico che vanta un buon collettivo. Sì, è una squadra molto forte, molto quadrata, ben organizzata, con una seconda linea, forse la linea dei recettori è una delle migliori del campionato, ecco sì, effettivamente sembrava che potessero a un certo punto anche chiudere il campionato al primo posto, adesso fanno parte di quelle 4-5 squadre che se la giocheranno fino in fondo, ecco complimenti a loro, però come ho già detto prima, tecnicamente è una squadra che soprattutto in seconda linea è molto 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 difficile da affrontare, di conseguenza bisogna battere molto molto bene. Giada Cecchetti è stata una delle protagoniste della bella vittoria di mercoledì con Delta Informatica Trentino, tre punti importanti e adesso un altro impegno importante, è difficile in trasferta con Marignano. Sì, siamo molto contenti dell'ultima prestazione contro Trento, non era una partita facile, abbiamo portato a casa tre punti fondamentali e questo è servito tanto per il morale, morale che dobbiamo mantenere alto e agguerrito per il prossimo match appunto contro Marignano perché sono un'ottima squadra, quindi non sarà una partita facile, sarà una vera battaglia, quindi saremo pronte ad affrontarla al meglio. Rush finale di stagione, tre giornate al termine della regular season, ma nelle ultime prestazioni avete dimostrato di stare bene sia dal punto di vista fisico e ci sono notati anche miglioramenti dal punto di vista tecnico-tattico, questo è importante in ottica play-off. Sì, stiamo crescendo partita dopo partita, ovviamente ci sono stati vari innesti tra i quali appunto anche io, il palleggiatore, quindi è normale che ci volesse un attimo di tempo per trovare i giusti meccanismi. Ci stiamo lavorando, stiamo lavorando tanto, siamo comunque un buon gruppo, dobbiamo crescere su tanti fattori, però giorno dopo giorno insomma stiamo facendo pratica. Sei praticamente da due mesi ormai a Soverato, un giudizio tuo personale sia sulla squadra, sull'ambiente e anche sulle tue prestazioni, sin qui se sei contenta di quello che stai facendo da quando sei arrivata a Soverato? Sì, sono molto contenta, devo dire ho trovato un bellissimo ambiente sia dentro sia fuori, mi spiace purtroppo i tifosi non possono essere presenti a tutte le partite perché comunque sono diciamo il giocatore in più che dà tanta forza, però l'ambiente è assolutamente molto positivo, anche il gruppo, le ragazze mi hanno accolto da subito bene, ormai sono due mesi e mi sono integrata alla perfezione, in campo si lavora, ci aiutiamo tanto tra di noi, quindi comunque direi tutto positivo, sono molto contenta e sono pronta per fare l'ultimo rush finale della stagione. Infine avendo tu giocato la prima parte di stagione in A1, adesso il girone di ritorno stai visionando anche le squadre di questo campionato di A2, un tuo giudizio su un campionato molto impegnativo e dispendioso dal punto di vista fisico ma anche molto avvincente? Assolutamente, sì è un campionato molto di equilibrio, come vediamo le prime perdono con metà classifica, le ultime, tutte se la giocano con tutte, c'è tanto equilibrio, è difficile a livello fisico perché bisogna saper risparmiare bene le energie in prospettiva delle varie partite che ci sono, rispetto all'A1 c'è tante situazioni di gioco, tante situazioni di difesa che a volte in A1 non c'è, quindi la palla ora che cade ci vuole molto più tempo, quindi comunque è proprio un altro tipo di sforzo fisico, però assolutamente molto avvincente perché è proprio una battaglia, palla dopo palla, azione dopo azione è una battaglia, quindi mi diverto e mi piace molto.